Rapporto sempre più complicato tra Eugenio Colombo e Francesca del taglia di uomini e donne dopo la recente separazione. I due, nonostante i figli ancora piccoli Brando e Zeno, non sono riusciti a mantenere un legame pacifico e nel corso degli ultimi mesi non sono mancate frecciatine e stoccate a mezzo L'ultima confessione dell'ex corteggiatrice ai suoi follower ha molto infastidito l'ex tronista di Maria De Filippi, che ha replicato per le rime. Tutto è iniziato quando Francesca del taglia ha rivelato ai suoi follower che il rapporto con Eugenio Colombo era in crisi ormai da un anno. Crisi dovuta, secondo l'influencer, anche al lavoro dell'ex compagno, perennemente in giro in quanto DJ, risposta che non è particolarmente piaciuta a Colombo, che ha replicato sul suo account chiarendo che non ci sarebbe stata alcuna crisi profonda a minare la sua relazione con la del taglia. Ha inoltre precisato che la sua professione nei locali non sarebbe mai stata un problema per la sua famiglia. Insomma, l'ennesimo botta è risposta tra Eugenio e Francesca. Fino a poco tempo fa una delle coppie più solide e unite di uomini e donne. I due non sono mai diventati marito e moglie nonostante la nascita dei bambini, tanto che la del taglia ha puntualizzato di non aver chiesto l'aiuto di un avvocato o un giudice dopo la rottura. Abbiamo trovato accordo noi. Economicamente ognuno fa il suo. Quindi non ce n'è stato bisogno. Ha spiegato la donna. Intanto al portale di Isa e Chia è giunta una segnalazione piuttosto interessante. Eugenio Colombo sarebbe stato avvistato in discoteca di Monopoli mentre baciava con trasporto e passione Pamela Barretta, ex del trono over di Uomini e Donne. L'ex tronista si è dichiarato single ma non è escluso un flirt con la sensuale ex. L'ex tronista si è dichiarato. L'ex tronista si è dichiarato. L'ex tronista si è dichiarato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.